UEFA Champions League che si prepara e mette l'ultimo attesissimo verdetto, una gara che vale tutta la stagione a tua sfera pazzesca in tribuna. Con me per il commento tecnico, come sempre, l'Elia Dani, pronti per un grande spettacolo. Si sfidano Liverpool e Real Madrid. La finale della UEFA Champions League è l'evento calcistico più visto al mondo dopo quello dei mondiali. Quanti paesi sono collegati? Milioni di spettatori sintonizzati per seguire quella che è la partita più importante dell'anno a livello di club. Storia, tradizione, gloria, basta a voi che vado avanti, no perché non ancora. Questo, eccolo, è lo schieramento di partenza del Liverpool. Alisson in porta. In difesa c'è Robertson con Alexander Arnold a presidiare le corsie laterali. Jordan Anderson insieme a Fabinho in posizione centrale. E un solo attaccante di ruolo per tentare di far male alla difesa avversaria. Il numero 1, Alisson Pecchè. Il numero 66, Trento e Fabinho. Il numero 5, Ibrahim Alcune. Il numero 4, Virgil Von Dijk. Il numero 26, Andrew Robertson. Il numero 3, Fabinho. Il numero 14, Jordan Anderson. Il numero 6. Queste sono le scelte di partenza del Madrid per questo match. Courtois tra i pali. Alaba a comporre la linea difensiva con Edher Militao. Toni Kroos insieme a Casemiro come coppia di centrocappo. E Karim Benzema, unica punta. Finale della guada Champions League è cominciata. 90 minuti, forse di più, per decidere chi salirà sul trono d'Europa. Intervento deciso. Gran palla, profonda. Vinicius Balerete sull'errore del portiere. Lui non ha sbagliato. E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. Bravo e Freddo a evitare il portiere in uscita. A quel punto è stato davvero un gioco da ragazzi a infilarla nella porta vuota. Gara che riprende e Liverpool che deve recuperare un gol. Ottimo intervento in scivolato. Arriva il fischio dell'arbitro. È fuori gioco, sì. Non ha letto bene i movimenti della linea difensiva, Pierre. Ha provato a rimettersi in gioco, ma era troppo tardi. Fabinho. Sale Mané, supportato dai compagni. Intercetta il lancio e riconquista il pallone. Carvacal. Prova a farla passare. Si imbola il difensore. Ha cestinato il pallone del possibile più due. Sa di averla combinata grossa. Avrebbero potuto gestire meglio la partita con due gol di vantaggio. Fabinho. Pallone mal calibrato e difesa che recupera. Mendy. Cross. Calcio di posizione per il Real. Gran tiro. La tiene il tortiere. Ecco Sadio Mané. Riceve Salah. Torna da Salah. Provinciano invitante. Sentire il pubblico. Abbiamo lasciato la spazio per tirare e lui ne ha approfittato. Ci stava calciare da quella distanza, ma non così. Modric. Buona serie di scambi nei giocatori del Real. Tackle decisivo. Occhio qui all'errore del portiere. Aveva tutta la porta a disposizione. E non ha sbagliato. Rete propiziata da un erroraccio del portiere, come ci mostra il replay. Ha finito per regalare palle di Stato Unito. Hanno pareggiato. Dunque, 1-1. Supera il difensore. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E il pallone finisce in rete. Mettono la freccia grazie a questo gol. Un gol dal peso specifico importantissimo. Potrebbe rivelarsi decisivo per questa finale. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Un gol facile facile, da sottomisura. Nulla da fare per il portiere. Il punteggio adesso è di 2-1. Salah. Balla permanente. Tiago Alcantara. Entra sulla palla e esaurisce l'azione avversaria. Avanza Cross a più opzioni. Occhio a Modric. Occhio a Modric da lì. Supera Arizona. Da pochi passi. Va, Tony Cross in mezzo. Non riesce a allontanare definitivamente. Azione che finisce qui. Posso partire in contropiede. Attenzione. Errore banale di Alexander-Arnold. Modric. Ci saranno da recuperare due minuti. il possesso di Salah. Possono pareggiare. Primo tempo che va dunque in archivio. Le squadre tornano negli spogliatori. No. 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 Grazie a dunque la ripresa di questa finale della UEFA Champions League. Occasione per Rodrigo. Ottimo intervento di Alisson. La gioca è curta. Parte il tiro. C'è la respinta sul tiro. Alisson, ma il pallone è ancora lì. Alisson di pugno. Vale qui, ha regalato di fatto il pallone al portiere. Conclusione da dimenticare, senza la cattiveria non si va da nessuna parte. Anometri a disposizione. Il risultato non cambia, sono sempre sotto di uno, ma devono ringraziare tutti. Guarda che finisce sul palo, occhio alla deviazione. Possesso è recuperato in zona pericolosa. Tutto fermo e l'Ardi tra l'annullato per fuori gioco. Stava già esultando per questa rete, non aveva fatto i conti con l'assistente però. Complimenti. Non era una chiamata facile, Pier. Perde un pallone pericoloso. Fabinho. Potrebbe essere il gol del pareggio. È andato vicino a segnarne un altro, ma il portiere stavolta gli ha rovinato la festa. Abbiamo già preso gol da questo giocatore, stavolta però il duello a distanza l'ha vinto lui. Batte corpo. Occhio al cross di Salah. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Possono prendere in contropiede la difesa. ha spazio per andare. Ha provato il cucchiaio, conclusione da dimenticare, pallone altissimo. Sì, dubito che ci riproverà Pier la prossima volta, visto i risultati. Andersson. Mané. Occhio a Salah. Riparte in Real. Sarà calcio di punizione per il Liverpool. Poco convinto in questo intervento. Lascia lì il pallone. Allontana la minaccia qui. Modric. Prosegue la sua avanzata. Modric! Portiere che con lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Aveva intuito subito la direzione del tiro. Sapeva che sarebbe terminato fuori. Forza e fresca per il Real Madrid. Ottimo contrasto. Luis Dias. C'è l'avanzata del giocatore del Liverpool. Può prendere la mira. Chiusura fondamentale. Possono ripartire. Attenzione. Sesso recuperato bene dalla difesa. Fallo. E dunque calcio di punizione per il Real. la mette sul secondo palo. Pallone controllato. Facilmente dal quartiere. Cerca il lancio lungo. dipende bene il pallone. Dipende bene il pallone. Ha scelto il male minore concedendo il corner. C'è l'avvicendamento nelle fila del Real. Corre in aria. sicuro l'intervento di Courtois. a metto. A campo libero. Riconquista palla. Ottima lettura. Valverde. Sarà calcio di punizione per il Madrid. l'arbitro non se l'è sentita di estrarre il giallo. Ma è difficile che la prossima volta se la passi liscia. Palla che finisce sul fondo. Ha perso una buona occasione. Real che pesca dalla panchina. e l'avvicendamento per l'inno. Se un complesso. Il numero di rischi. La transsanzione. Manca poco. Può essere l'ultima chance per i pari. Ha spazzolo avanti a sé. Courtois. Bravissimo qui. Triplice cambio per il Liverpool. Crossa nel mezzo. Se la cavano Ha perso il pallone Ancora tre minuti da giocare Possono trovare il gol del pari Attenzione L'arbitro assegna il penalty per questo intervento Colpo di scena L'arbitro decide la linea morbida E si limita al cartellino giallo Credo sia la decisione più giusta Pier Il rosso sarebbe stato un provvedimento Troppo severo in questo caso Parte Salah E c'è il gol Con sicurezza Ha battuto il portiere Rigore trasformato in tutta sicurezza Come possiamo vedere da questo replay Il palla sotto il 7 Non si prende lì Le due squadre sono di nuovo in parità Davvero una partita che regala emozioni Il recupero concesso è di 4 minuti Real che prova a spingere l'intentativo di spezzare l'equilibrio in questo finale Grande scelta di tempo qui Recupera il pallone Vediamo come sfruttano il contropiede Vediamo se riesce a passare il difensore Difensore straordinario qui Finisce in parità Si andrà dunque i supplementari Primo tempo supplementare Capo Venezio Molta curiosità per capire Chi aveva più benzina da spendere C'è con l'efficacia Il lancio lungo di Carvacal Grande pallone verticale Ottimo intervento di Alisson C'è in cambio nel Madrid Scambia corto sul compagno Ottima lettura difensiva Salah Alla per Nabi Keita Occhio all'avanzata di Salah Azione che sfuma Ottima lettura difensiva Il match è godibile Il match è godibile L'importante c'è Attenzione che occasione Pier La mette e non dimenticherà questa giornata Tre gol della stessa partita E qui possiamo rivedere l'azione del gol Una ripartenza da manuale Hanno poi finalizzato alla perfezione Questi due contro uno Niente da fare per il portiere Si ricomincia con Liverpool che deve recuperare C'è un minuto ancora da giocare Palla intercettata Nuovo possesso Prosegue l'avanzata Occhio a Modric da lì Finisce così il primo tempo supplementario Secondo tempo supplementario che ha avuto inizio altri 15 minuti Cerca l'inbucata per il compagno Ha sbagliato a tu per tu col portiere Palla fuori di poco Ha pensato solo a calciare di potenza E la precisione? Conate Mette in movimento Diogo Giota Luis Dias Trovato qui Valverde Ci sono metri per le merenghies Per spingere La ciocca su Vinicius Troppo lungo Nessuno può arrivare Palla buttata via L'ha letta bene il difensore Assenzio Prova super difesa con questo pallone Super Aniston qui Possono chiuderla qui Si sfrutteranno bene questo calcio in angolo Pallone in mezzo La mette fuori Pischia alla fine l'arbitro con la coppa che va in archivio Trionfano al termine di un torneo giocato ad alto livello Ci tenevano in maniera particolare questa competizione Lo si era visto già dalla prima partita Pier Non era facile oggi La pressione era notevole Ma una volta in campo hanno dimostrato di volere la vittoria a ogni costo E il resto è storia Per l'ennesima volta Il Real Madrid Scrive il suo nome su questa coppa Su queste grandi orecchie Sulla UEFA Champions League A coronamento di un'altra andata straordinaria Per questo gruppo che adesso ovviamente ne ha pieno diritto Può lasciarsi andare ai festeggiamenti Che stagione Ma che stagione Non hanno mai mollato Hanno lottato partita dopo partita fino al traguardo finale Passando dalle difficoltà della fase Gironi Vincendo gli scontri e eliminazioni di Redda Meritano senza alcun dubbio di essere incoronati Oggi qui e di essere diventati campioni d'Europa Eccolo il momento Stanno per alzare al cielo la orecchona La coppa dalle grandi orecchie È la festa del Real Madrid I tifosi sono impazziti sugli spalti Mentre in campo la squadra porta in trionfo la coppa Il pubblico ha sostenuto la squadra anche nei momenti più complicati Partecipato attivamente alla conquista di questo trofeo Hai detto bene Pier Sono stati il dodicesimo uomo in campo in molti incontri Ora è giusto che possono festeggiare E lo devono fare insieme ai calciatori È una festa che non sembra volersi fermare Sarà davvero una lunga notte per loro Foto ricordo È il momento della festa Per i nuovi campioni d'Europa del Real Madrid La coppa dalle grandi orecchie La UEFA Champions League È nelle loro mani Sì 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 Grazie.